Allora, prima di andare a vedere, ad esplorare la mappa con l'iPad, Giovanni ci farà fare un viaggio simulato per il centro storico di Bologna, in realtà faremo poi solo un piccolo percorso che possiamo immaginare di percorrere in autobus all'incirca, vista la velocità di simulazione. Chiaramente in questo caso gli indicatori ci daranno una direzione di movimento valida e quindi gli eventuali preferiti memorizzati che incontreremo per strada, nelle vicinanze, insomma, l'angolo che ci verrà dato sarà riferito alla nostra direzione di movimento. Peraltro abbiamo cambiato nelle impostazioni un settaggio, insomma, la visualizzazione dell'angolo che non è più in termini di orologio ma è fornita proprio come angolo. Giusto per vedere l'effetto che fa. La differenza, esattamente. Quindi ci trasferiamo in Via Rizzoli, vicinissimi in Piazza Maggiore, saliamo su un bel 13 e proviamo a vedere di raggiungere la fermata che viene chiamata nel nostro preferito Bus Porta Santo Stefano. Quello che accadrà, giusto per un pochino prepararci ai messaggi vocali che andremo sentendo, accadrà ovviamente che Google ci restituisce informazioni a intervalli più o meno regolari della strada che stiamo percorrendo e quello lo farà in automatico. Accadrà che in automatico anche questo Ariadne ci informerà qual è a quel punto del tragitto il preferito più vicino e sarà soltanto un'informazione di questo tipo, quindi preferito più vicino. Il suono, circa il raggiungimento del preferito, scatterà solo quando raggiungeremo la distanza che a livello della finestra delle impostazioni abbiamo in precedenza settato, che è quello di 100 metri. Quindi saremmo avvertiti di essere in prossimità del preferito successivo, cioè a circa 100 metri, solo quando raggiungeremo questa distanza impostata. E poi man mano vedremo qualche altro indicatore, compatibilmente col tempo che il percorso ci permette qualche altro indicatore come poterlo leggere, come potercelo rendere utile. Avvia monitor, si parte, non sentiremo alcun rumore, per fortuna. Proviamo a vedere cosa succede. Ecco, in realtà, cominciamo a sentire il primo feedback di Google, quindi ci restituisce l'indirizzo, abbiamo sentito quel ding acuto che ci indica che la direzione di movimento è tornata a essere un valore significativo. Queste sono traverse che incrociamo, man mano che si procede per il via. Ecco, andiamo. Ecco, stiamo andando verso est, leggermente verso sud-est, considerando che l'est è a 90 gradi, via Calzoleria, stiamo procedendo. Questo è sempre il monitor automatico della strada che stiamo percorrendo. Ecco, questo è un preferito all'altezza dell'incrocio tra Rizzoli e Castiglione, sostanzialmente. Ecco, 47 metri, 74 gradi a sinistra, direzione di movimento, 100 est. Proviamo a rimanere qui sulla direzione di movimento. Sentite come abbiamo virato repentinamente da 100 a 190 gradi, proprio perché lì abbiamo girato per via Castiglione, via Castiglione, via Castiglione, via Castiglione 1-2 centro. Stiamo procedendo sostanzialmente per la stessa direzione perché voiceover, lasciando il focus sull'indicazione della direzione, via Santo Stefano 1-4 centro, non ci sta restituendo modifiche per cui direi che... preferito più vicino, farini angolo Castiglione, 150 metri, 0 gradi davanti a te. Ecco, 150 metri dal preferito più vicino, via San Piero 1-5. Continua il monitor, è chiaro che c'è una... via Castiglione 4-8 centro. Una sovrabbondanza di informazioni, ma questo nella simulazione ci può stare, evidentemente se dobbiamo monitorare dei preferiti potrebbe non essere... Ecco, 0 gradi davanti a noi, stiamo andando pressoché dritti verso il preferito marcato all'incrocio tra le due vie. C'è via Castiglione 12 Galvani, direzione di movimento 190 sud. 190 sud imperterriti senza... Beh, sì, essendo una simulazione qui era preimpostato col centro. Direi che non c'è, non ci sono buche che il nostro bus debba evitare cambiando repentinamente. O macchina parte già. Via Farini, 31 gradi a sinistra. 25, direzione di movimento, 110 est. Ecco, siamo ritornati ancora a girare verso sinistra e per cui riusciamo anche a immaginare il percorso che ci stiamo facendo. 51 metri, 173 gradi a destra. Preferito più vicino, bus Farini. Bus Farini, 51 metri, 168 metri, 172 gradi a destra. In realtà, 162 metri, la distanza sta aumentando dal preferito Farini, bus Farini. Bus Farini, 114 metri, 171 gradi a destra. E ce l'abbiamo pressoché dietro a questo punto. 642 metri, direzione di movimento, 110 est, via Santo Stefano 30-2 a 32-2 Galvani. Siamo in via Santo Stefano. Bus Garganelli, 121 metri, 33 gradi a destra. Bus Garganelli e la successiva. 6 a circa 110 metri da Bus Garganelli, 6 gradi a destra. Direzione di movimento, 140 sud-est. 140 sud-est e qui conosce Bologna, sa che a un certo punto via Santo Stefano curva leggermente a destra. 38. Stiamo procedendo lungo via Santo Stefano. Il civico ci informa che tutto procede regolarmente. 40 a 58-2. E nel frattempo siamo stati, come avete sentito anche avvertiti dal suono, ovvero l'avvicinarsi del bus Garganelli, dove non scenderemo. E procediamo per Santo Stefano. Siamo all'altezza dei civici 43-67. Tra un po' vi avverto che incroceremo un preferito all'altezza di via Dante. Direzione di movimento, 155 sud-est. Sempre verso via Santo Stefano 40 a 58-2 Porta Ravignana. Ecco, sempre il monitor che restituisce Porta Ravignana e il quartiere, vero? Esattamente, Porta Ravignana. Ma io l'ho imparato grazie ad Ariadne. Sì, la nomenclatura di Google, che è un po' obsoleta per quanto riguarda i quartieri del comune di Bologna. 43-67. Stiamo ancora procedendo. La via Santo Stefano è un tratto abbastanza lungo, se volete. E come sentite, anche Google restituisce dei range di numeri civici abbastanza ampio, per cui con il nostro bus virtuale dobbiamo aspettare di percorrerli tutti. Proviamo a vedere qual è. Ecco, via Dante 1 a 9. Ecco, abbiamo raggiunto via Dante 1 a 9, che è un preferito, appunto, marcato all'incrocio tra via Santo Stefano e via Dante, ed è lungo il nostro percorso. Raggio d'incertezza, 10 metri. Raggio d'incertezza, 100 metri. Via Santo Stefano, 95, 94 a 101. Via, mappa. 112 gradi est. Questa. 103 a 110. Direzione di movimento, 155 sud est. 165 metri. Preferito più vicino, via Dante 1 a 9. Siamo ancora col preferito più vicino, via Dante 1 a 9. 160 sud. Ma tra non molto dovremmo essere vicini alla destinazione che bus porta a Santo Stefano. Stiamo ancora percorrendo, i numeri civici ci rassicurano su questo. 107 a 117. E tra non molto. 119 a 121. Il suono che abbiamo impostato, con il relativo messaggio vocale di voiceover, ci informerà di essere arrivati già a ridosso della fermata. A quel punto possiamo prepararsi e scendere. Preferito più vicino, bus porta Santo Stefano, 215 metri, 25 gradi a sinistra. Direi che a questo punto Ariadne ci ha informato di essere già a ridosso del coso, però non suona ancora, non ha ancora suonato, perché non abbiamo raggiunto la distanza preimpostata. Lo farà a brevissimo. 174. Quindi non appena siamo in piazza, la fermata è immediatamente dopo la stessa. Piazza di Porta Santo Stefano 1 Murri. Quartiere Murri, come sentite è cambiato. Di Augusto Murri Murri. Eccola qua, una fermata. Sei a circa 103 metri da bus porta Santo Stefano, 23 gradi a sinistra. Ci alziamo dal bus, ci prepariamo per scendere e speriamo di aver reso un pochino l'idea. Ferma monitor, pulsante. Fermiamo il monitor, chiudiamo la nostra Ariadne e a questo punto procediamo con l'esplorazione delle mappe e tutte le gioie del caso. Benissimo, continuiamo con l'esplorazione di Ariadne e GPS e a questo punto arriviamo a quella che è una delle caratteristiche fondamentali dell'applicazione, ovvero la possibilità di esplorare tattilmente una mappa e già questo suonerebbe come un controsenso trattandosi di un dispositivo dotato esclusivamente di tassi.